E' quello che dovrebbero fare un po' il cucchiaio Luca Beh, si, però non sempre è facile Non sempre Dopo riprendiamo Riprendiamo dai tuoi per di tanto quando è finito Mi allura, no mes de... Finiamo E tu preghi tanto? Sì E qual è la preghiera che ti piace di più? E tanto lo voglio Alt, da capo, mi ha anticipato Non preoccuparti di aver la fretta, non aver la fretta E tu preghi tanto? Sì E qual è la preghiera che ti piace di più? Sì Tanto lo voglio E lo preghi da solo? Sì Ma è molto più bello insieme Da capo Cip E tu preghi tanto? Sì E qual è la preghiera che ti piace di più? E tanto lo voglio A capo E tu preghi tanto? Sì E qual è la preghiera che ti piace di più? Aia Siamo sulla risata Siamo morti No Guardami No, no ci siamo Via Ok Aspetta che la rifacciamo ancora dall'inizio dai Intanto è un minuto Da dove? Sì No, va bene No, intanto guarda Impegriamo due minuti Però lo facciamo da lì Meglio farla bene dai Via Sogno? Sì Vale Fare una cosa Con un bello Magari Non fare una Del Milan? Sì Dobbiamo rifare le ultime due battute Basta No ma da prima perché Io ti faccio da chi è Giulia? E tu mi dici? È un angelo in paradiso Che è diventato un esempio di forza e coraggio Amore per tutti noi Per tutti quelli che l'hanno conosciuto Adesso andiamo Un secondo Guardami No, non guardarmi Da qui eh E chi è Giulia? Oh, non è Giulia Allora lo fa apposta Mamma mia E tu hai un sogno? Sì Fare Un gran col Con perco Da Un pomeriggio Bellissimo 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 Dopo Adesso Leggi anche Che così Teniamo anche quella Che se esce bene La teniamo Un pomeriggio Un pomeriggio Che è un pomeriggio Che è un pomeriggio Un pomeriggio E un pomeriggio E tu? Eugino No Chi è Giulia? Un angelo in paradiso Che è diventato un esempio Di forza e coraggio E di puro amore Per tutti quelli che l'hanno conosciuta E la conosceranno E perché ci siamo rilassati E per quello Adesso parte la moto Allora E quindi E il problema E no Il problema E che adesso Ho già scattato L'ora dopo E 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 Siamo già sui mille euro Che l'erba cresce Sì Basta Seri come prima Dai Ci manca una battuta Cristo Dai Pronto?